A proposito di manovra, registriamo anche un commento da parte dell'onorevole Andrea Martella. Le nuove buste esplosive rinvenute e indirizzate questa volta al Premier Monti, al leader dei principali partiti e direttori di giornali, sono intollerabili, questo dice Martella. Questa china delle intimidazioni va stroncata sul nascere, individuando subito gli autori. Sono atti che non si possono far parlare affrettatamente di ritorno al terrorismo, ma che ugualmente non vanno sottovalutati, anche se fossero stati commessi da mitomani. Per questo, conclude Martella, per fare piena luce su questi episodi gravissimi, chiederemo al Ministro dell'Interno Cancellieri di riferire in aula. Dichiarazioni sulla manovra anche dal senatore Scarpa, in particolar modo sulla questione dell'agricoltura. Occorre considerare l'alto senso di responsabilità delle organizzazioni agricole italiane, dice Scarpa, che hanno deciso di non manifestare in piazza contro una manovra finanziaria che si è abbattuta come una meteorite sull'agricoltura italiana. Nei giorni scorsi non mi sono risparmiato di evidenziare l'incremento inaccettabile della tassazione sui terreni e fabbricati rurali. Le prime stime ci dicono che oltre il 10% della manovra la pagheranno gli agricoltori che già soffrono di un pesante calo di reddittività. Voterò la manovra solo per disciplina, ma subito dopo apriremo con il governo, conclude il senatore Scarpa, un confronto serrato per portarlo a capire ciò che l'agricoltura non è più in grado di sopportare.